Ma ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video Io sono Bobo Fitzgerald Ma voi potete chiamarmi Fitz E oggi siamo presenti con Mick Bon E oggi faremo diverse partite su Fortnite Non lo so, quelle che riusciamo a fare Forse ne riusciamo a fare solo una Però intanto giochiamo finché possiamo giocare Mettiamo il filtro antipop No, per stavolta lo togliamo Lasciamo solamente il microfono Si dovrebbe sentire meglio, vero Mick? Vabbè, spero che sarà una partita interessante Una partita bella Una partita dove faremo il nostro meglio Magari una vittoria reale, chi lo sa Comunque Mick ti vedo un pochettino spento Ti vedo un pochettino spento Io? No, perché ho freddo Ho freddo? Ho freddo Guarda che tiro Guarda che tiro E' proprio tu la palla, io non c'erò la palla Tu sei un pazzo Ora attraverso Aspetta, facciamo la crossbar challenge Io non c'erò il ballo Ok Se non prendo la traversa scenderò di 3 iscritti E' rosso, no, ti ha dato il rosso E' rosso Non c'è niente che mi ha dato il rosso Ti ammazzo, lo ammazzo Guarda, guarda Dov'è? Ti amo Guarda Aspetta, gli faccio Guarda 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 No, è copyright, copyright No Stiamo facendo un balletto copyright Allora, dove andiamo? Ah, dove ho messo il ping Non ho visto nessun ping Quello rosso Non ho visto alcun ping Ecco qua, i jokes, perfetto Io mi butto già adesso Anche io Apri il deltaplano perché è lontano, eh No, no, ce la faccio Qua c'è il drago Sharon Guarda il mio deltaplano, riesci a vederlo? No Al petto che scendo Ah, figo Ok, guarda Guarda Dove sei? Sono qui sotto Ah, quello Ah, bello Quello di Marshmallow Ma mi ricordo che uno ci riempie Ci regalò Quando eravamo tipo in VH E una cosa del genere Ci regalò tutto il set di Marshmallow Sì? Sì, sì, tutto Allora Tigo, c'è tanta gente Ma non ce ne sono tanti ai Jones Stanno andando tutti da Darth Vader Ok Forse uno ai Jones Non lo so Vabbè, lo uccideremo Scendi veloce veloce Scendi, scendi Mettete like se vi sta piacendo Questo Questi contenuti Il ritorno Questo ritorno so farmi Il ritorno su Fuv denied Allora Su Fuv denied Fuv denied Sì, sì Ok, prendiamo la mitraglietta Scendiamo in questa parte Ho trovato subito Una godo godo chest Oh, assalto blu Ok, ho trovato una fiocina Una fiocina No, aspetta Non spaccare le casse Senza di Sorry Mio Mio E te la pingate al posto Una Ma prendete Quanto non mi serve Mi c'è quello blu Tu sei pazzo Mica van gog Mica No, copia No, sento una cesta Da qua Da qua Ah, no, è fortissimo No, è fortissima Mica Oh, ma c'è uno L'ho sciolto con la mitraglietta E' grande, bravo Ma io lo so fare Stavo ballando Allora, questo è forte Allora, lo butto negli inferi Guarda, lo porto in giro Come merce di scambio Ha ammazzato un altro Portiamogli in giro Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh È morto Che stai a fare? Che stai a fare? Beh, io mi prendo il cerchino Ma io mi prendo pure Ah, prendi da qui Ah, ce ne sono un botto No, questa mitraglietta è troppo forte Mi puoi dare i colpi? Ma c'è una mitraglietta Uh, di quello che ho ammazzato C'è una mitraglietta epica, cioè io Ah Di quello che ho ammazzato Vabbè, ci dividiamo le armi C'ho un assalto blu E il pompa bianco, vabbò E poi la mitraglietta epica E il cerchino blu No, comunque è forte questa mitraglietta La devi saper usare A me non piace Perché in pratica devi aspettare Che si carica tutto E poi scarichi, cioè Mi ha dato degli shieldini Grazie A me il medikit è giustamente inutile Ah, benissimo Allora, devo trovare Delle cose Tu hai fatto musica? Sì Anche io Io ho scritto un commento lunghissimo No, io un commento più o meno medio-lungo Io un altro commento ho fatto Ah, ti sei fregato tutto, bravissimo Ho fatto tutto, per dire Sufs Vieni qua, dove sto io Dove sei tu? Eh, seguimi la mia scritta, no? Eh, ti ho visto Allora, vieni qua, dove sono io Che c'è questa per te No, 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 mi piace Mi piace di più Allora, questo forse lo prendo Al posto della pioggina Appena Innanzitutto fammi prendere uno figlino Io ho pochissimi colpi Ah, perfetto Zero colpi del lanciasegaggi Perfetto Benissimo, vai Ma tu ti teletrasporti Michela Fammi capire Vedremo che ci abbia lasciato il buon Miche Ci sei? Giordano, io devo andare Eh? Vabbè, ma l'ultima partita E mo' devo andare però Eh, però non puoi mica lasciarmi in uno E quando torno poi giochiamo? Tanto torno alle sette Torno Va bene? Dai, però puoi chiedermi l'ultima partita Cioè, siamo già in quarantuno Sta per finire Va bene Allora, quasi Stiamo in diciotto L'ho quasi finita Allora Ce n'è uno là Vabbè, allora Mamma mia che mira Ok, l'ho preso L'ho preso un'altra volta Questo è un nabbo Non so perché non lo sto uccidendo È proprio un nabissimo Morto, ce ne sono Ce n'è un altro Ce n'è uno dietro Ho sentito uno dietro Dietro di noi? No, ce n'è uno che sta attaccato dai lupi Ah, ah Eccolo Ho ucciso Grande Mi sto massacrando Tu hai tre chili, io due Tieni, Giordano Cosa? Ti lascio questa pompa Grazie Allora, ehm Ce n'era un altro Che ho visto che stava sparando Ma l'altro dov'è? Quello è risuscitato Ma è morto Cioè, ma ci rendiamo conto che io sto andando dalle ore in giro con la fiocina C'era un altro Ho visto sta qua Dove, dove? Qua adesso Io Dietro Ho costruito Ho sentito tantissimo Sta qua Sta qua Dove? Cioè, più o meno vicino a noi Eh, lasciamolo Ma però c'è una cesta, diamine Allora, dov'è? Ma dov'è? Ma dov'è? Allora, io so solo che qua c'è una cesta Vabbè, sì, va qua Non so se l'automatico è più forte di questo Io mi tengo questo Qual è? No, vabbè, lascia perdere Un lupo! Dov'è? Uccidere No, no Non voglio sprecare munizioni Io corro Uccidere Una nitroglietta epica Ma dov'è? Ma dov'è? Non l'ho visto Ah, devo andare in zona, innanzitutto Ci sono delle 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 capsule Due capsule Dai, andiamo in zona Che lontana Vabbè, sì Vai, andiamo Aspetta, per un saltino le capsule ce lo farei io, eh Non lo so Ah, sì, sono vicine, sono vicine tanto Sono vicine un attimo Ok Vabbè, io devo andare Eh, vabbè Lasciami in uno Ah, c'è Ti prendo la capsule Poi giochiamo quando torniamo Va bene? Eh sì Però non è molto carino Lasciarmi in uno Eh, devo andare in palestra Ah, ti lascio ai miei doni Grazie, almeno Grazie, almeno Tutto questo ti lascio Però non lo so Questa mi sta piacendo tanto Quindi me la tengo Grazie comunque Colpi, 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 colpi Materiali, materiali, materiali Grazie Tutto, tutto Vado, sono quasi fullato del legno Ciao Ci vediamo Ciao Allora, ti chiamo con il telefono di mia madre perché il mio amore è zero Ha scaricato Ok Ciao Ciao Crocevilla conici Ciao Eh, bene ragazzi, siamo rimasti soli quindi dobbiamo prendere la capsula Almeno ce l'abbiamo tutta per noi Allora, l'onda energetica prenderà il posto Allora, facciamo che il cecchino lo lasciamo Perché servono tutte e due qua Questa già serve già fin da adesso Mamma mia che salto E fu così che Bobo se ne andò in safe Mamma mia quanto era lontana Meno male che l'ho presa E soprattutto meno male che c'era Oh mamma mia Veloce 9, 10 secondi altri Di inferno 4, 3, 2, 1 Ok Sceleriamo un po' Poi sul ciglio della montagna Ce ne voliamo Ok Però non so andare Non so dove andare per beccare poca gente Nel dubbio mi metto già con Il pompa Ok, qua non dovrebbe starci molta gente Allora provo a fare il salto della fede Mannaggia non ce l'ho fatta Ok Ok La mongolfiera Ci mettiamo qua appostati e aspettiamo potrebbero arrivare armi molto succose ui dov'è? eccolo mi carico questo e vai ma come cacchio è andata a sciottato io oh mamma mia però devo assolutamente curarmi in qualche modo ma devo in qualche modo ma devo allora anzitutto medikit mamma mia che costruzione proprio maligna l'ho fatta allora innanzitutto prendiamoci questo così sparisce e non viene più nessuno godo cosa sto facendo? oi allora innanzitutto prendiamo questo sicura bombe fanno sempre bene altro punto però non so più cosa prendere vabbè un medikit me lo sparo lo stesso 4 3 2 1 vai ok siamo pronti anche per volare nel dubbio ci servisse nel caso ci servisse scusate popopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop mi ha mirato bene godo l'ho shottato mamma mia la sto giocando benissimo sta partita me la sto giocando troppo bene godo che ho trovato sta mitraglia me la sto giocando benissimo questa oh sono full no ho sbagliato meno male sono full quasi di tutto in pratica sono messo estremamente bene siamo in otto sono in safe in pratica tanta roba tanta roba intanto scendono capsule in posti dove nessuno andrà aspetta però è nel dubbio sperando che non ne abbia sprecata nessuna vabbè è uguale l'avrei preso sperando che fossero tre comunque ora non so cosa fare io mi campero ok ne è sceso uno oh 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 via scappo scappo ehi forza miseria ora me la devo giocare con questa poca vita no non credo esatto proprio come dicevo scusate ragazzi sono respirato questa è una partita importantissima perché tutte lo sono ma questa in particolare lo è non lo so mi da questa sensazione ah giusto che ho tutti tutto al massimo ecco questo è un posto proprio ideale ma con queste armi io sono più che sicuro qua perché qua se tanto si avvicinano scappo perché ho questa arma Dragon Ball se se ne vanno cioè se non viene cioè se non viene nessuno cosa molto probabile sto tranquillo eh attimi di tensione questi eh o sbaglio eh guarda mi attizza proprio prendere quella quella cesta poi sarà l'errore più grande della mia vita ma io ci provo uh quanto mi attizza prendere questo però poi mi sgamano perché tutte le armi sono aspetta uno forza 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 ok a posto ci sarebbe un lama no no ho visto male ok ora però devo un po' allontanarmi devo tornare dove ero prima ora sperando che nessuno venga da questa parte ma a sto punto non credo oddio ce n'è uno ok lo uccido questo qua ci provo l'ho sciocato ma quest'arma è devastante proprio questa mitraglietta questa mitraglietta è proprio devastante ma proprio tanto cioè è fortissima allora uso solo questa allora uso solo questa e la l'onda energetica calcolate che sono contro due aspetta ho provato a prendere qualcuno con l'onda energetica dato che stavano riportando in vita però ho fatto una grande cavolata penso no 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 scappo 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 un brufolo è la safe ma che stiamo scherzando ok questo lo uccido o perlomeno ci provo non l'ho preso ma non ci credo questa volta sono morto perché questo ora viene e mi uccide vero ok l'ho messo giù ti servono cure assolutamente non posso distrarmi uffa sono fullato ma però con le armi ok c'ho questo se possiamo stare tranquilli c'ho questo ora prendo il cerchino però sappiamo ora però non ci sono cure cavolo ho sbaglio in due siamo in due faccio qua l'onda energetica faceva comodo eccolo sta là sta là il bastardo sta là sta là dietro li vado contro chi si è visto si è visto ho il dubbio c'ho questo dov'è l'ho perso no 17 di vita sto bambione dimmi no 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 segnala segnala se balla se lo segnalo ti conviene non ballare ok dai non ha ballato peccato peccato questa mi brucia questa mi brucia tanto perché questa si poteva portare a casa questa si poteva portare a casa e mi brucia e mi brucia tanto si poteva portare a casa potevo ammazzare quello in maniera incredibile ma invece invece non l'ho fatto potevo ammazzarlo in maniera incredibile però non me la sono sentita raga non me la sono sentita non volevo risparmiarlo potevo usare il pompa potevo usare il pompa ma l'ho risparmiato non me la sentivo di far perdere un bimbo poi magari si metteva a piangere sai segnalava ancora sicuramente un bimbetto che è ancora all'atta quindi non mi andava sinceramente te lo dico proprio sinceramente questa brucia molto lo ammetto brucia moltissimo però che ci possiamo fare tra l'altro detto questo ragazzi io vi do un bel saluto da Bobo Vissi Giorda e tutto